Buon pomeriggio a tutti! Per chi è come me questi giorni chiusa a casa e sta rivoluzionando diciamo un po' l'arrizzamento, dando un tocco in più per renderla più accogliente. Vi farò vedere come si fa. Ed oggi è molto facile farlo anche direttamente da casa, andando sul sito www.unigross.it dove troverete tutto ciò che può rendere più comportevole la vostra casa. Se avete trovato ciò che vi piace e si adatte di più al vostro arredamento, prima di procedere con l'acquisto mi raccomando e mettete il codice SNG1-3 e riceverete immediatamente il 10% di sconto. Ecco qua! Già sono arrivate le mie cose! Questi sono i miei appristi! Ora tocca a voi cosa aspettate! Tanti saluti da Senegallia!